Volte a Battipaglia gli esami tossicologici dopo l'incidente mortale di Sara Passero. Sono negativi i risultati dell'alcol e droga test riguardanti il motociclista e l'automobilista coinvolti nell'incidente mortale avvenuto nei giorni scorsi a Battipaglia che è costato la vita alla 27enne Sara Passero. Tra le cause del sinistro stradale ci sarebbe la velocità probabilmente sostenuta della moto che poi si è scontrata con l'automobile. L'urto tra la moto e una onda condotta dal fidanzato di Sara Passero e la Smart guidata da una donna battipagliese fu molto violento. Sara e il fidanzato indossavano entrambi il casco ma la caduta è stata fatale. Gli agenti del locale commissariato agli ordini del vicequestore Giuseppe Fedele subito dopo il sinistro in via Baratta effettuarono tutti i rilievi necessari per accertare dinamiche ed eventuali irresponsabilità. Si tratta in ogni caso di un tratto di strada urbana dove il limite di velocità è basso ma spesso si trasgredisce e si percorre via Baratta a velocità sostenuta e probabilmente con poca prudenza. Intanto proprio per cercare di porre rimedi e fornire maggiori sicurezza nei giorni scorsi molti battipagliesi sui social hanno chiesto l'installazione delle telecamere in via Baratta e in altre strade che solitamente vengono percorse a velocità elevate da automobilisti e motociclisti. È stato anche chiesto di potenziare l'illuminazione pubblica per evitare altre tragedie.